Potrebbe esserci una svolta nel mercato della Paganese nelle prossime ore, con la probabile eccessione del forte esterno Cicerelli alla Salernitana, che sarebbe disposta a sborsare cifra cash ed a far arrivare in azzurro stellato, come parziale contro partita, l'attaccante Regolanti, ex Pontedera, tesserato di recente dalla società Granata, in passato con il Latina in Serie B. Non c'è nessuna conferma, ma le indiscrezioni in tal senso sono numerose. Vedremo quello che accadrà. Continua in casa Rossoblu intanto la ricerca di rinforzi per la prossima stagione. In questi giorni, infatti, si sta allenando coi falchetti Lettonevoro Bios, che è un trequartista con esperienza con l'Arbino Leffe e la Grumellese, prima di tornare in patria nelle file del riga. Ora sta scazzola a valutare un possibile ingaggio che potrebbe rimpolpare l'organico Rossoblu di un elemento valido. Intanto, nello scorso weekend era rimbalzata la voce dell'arrivo dal Parma dell'esperto centrocampista Francesco Corapi. Voce rimasta tale perché fonti della società Rossoblu hanno seccamente smentito la notizia. Il patron Franco Manniello, anche quest'estate, nonostante sia rimasto da solo al vertice della società e la questione del menti che sarà inutilizzabile per svariati mesi, sta allestendo in sordina una squadra forte e importante, capace di recitare un ruolo di primo piano in un giurone ridotto a 18 squadre e dove le Vespe giallo-blu potrebbero essere la squadra rivelazione. L'ultima indiscrezione, tra l'altro non smentita, riguarderebbe la trattativa per portare in giallo-blu un suo vecchio pallino, il 32enne attaccante della vicina Pompei, Felice Vaco, specialista in promozioni, che non rientra nei programmi tecnici del Parma, che è proprietario del cartellino. L'idea è davvero affascinante ed è superfluo dire che i tifosi sognano ad occhi aperti. Confermata, infine, la trattativa per il trasferimento del gioiellino Mastalli in un club di Serie B. Infine, la doppietta di Paponi all'Ascoli in Team Cup sabato sera potrebbe però far cambiare obiettivi ed idee. Staremo a vedere.